Il quadrettino rosso, Igna? Il quadrettino rosso, Il quadrettino rosso, Igna? Il quadrettino rosso, Igna? Il quadrettino rosso, Igna? Il quadrettino rosso, Igna? No, ma che, ma che, ma che, non c'è nessuno, in queste macchine diplomatiche, in genere, e per deviare, e per deviare. Grazie, grazie, bravo, bravissima, 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 bravissima. E' un pezzo, perché, non c'è niente, però, l'hai fatto, io ho fatto in diretta, tutti me lo stavano dicendo, facci vedere in diretta, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.